Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Daniele Zemignani e dal 1992 mi occupo di intermedizione immobiliare, sono anche il fondatore di italiani in Spagna, gruppo al quale mi invito ad iscrivervi naturalmente. Oggi parleremo di hotel, la crisi del coronavirus ha messo alle corde migliaia di attività in tutta la Spagna, il blocco dell'attività nella prima settimana dello stato di allarme, le restrizioni sulla mobilità e la riduzione dei consumi dovute all'incertezza economica e lavorativa ha obbligato molte imprese alla chiusura definitiva. Coincidenza o conseguenza è stato l'aumento del numero degli immobili messi in vendita nel settore ricettivo e anche nel settore dello svago. Analizzando l'idealista si possono vedere almeno 27.312 in vendita in Spagna, circa 500 hotel e oltre 200 locali notturni. Diciamo che il monte complessivo del valore immobiliare è superiore ai 1200 milioni di euro per quanto riguarda gli immobili da destinazione ricettiva. Nel caso degli hotel lo stock nel marketplace immobiliare spagnolo è cresciuto da marzo a ottobre del 19%. Attualmente ci sono 557 hotel in vendita, però un valore che supera i 1200 milioni di euro. Tutte le regioni hanno unità disponibili. Naturalmente ci sono delle zone che spiccano. Nel mercato immobiliare spicca appunto l'Andalusia e la Catalunia che insieme sommano oltre 100 hotel in vendita. in Castiglia e Leone troviamo 67 hotel, alle Baleari 59 hotel, comunità valenziana 43, Galizia 32, mentre alle Canarie ci sono 26 hotel in vendita. A Madrid ce ne sono 19. Se facciamo un'analisi per provincia. Barcellona sicuramente è una delle province più colpite con 49 hotel in vendita e al secondo posto troviamo Malaga con 39 hotel seguite da Girona e Granada 32. Alicante 20 hotel, Madrid 19. Il range di prezzo è molto vario. Il meno caro lo troviamo da Logronio per un valore di circa 400 mila euro, mentre il più caro lo troviamo da Ibiza con un hotel in vendita a 52 milioni di euro. Si tratta però di un immobile che supera i 4000 metri quadrati e si sviluppa su 7 piani. Il settore hotel è profondamente in crisi. Secondo uno studio che realizzato dalla società Cushman e Wakefield risulta che gli hotel non torneranno a recuperare i loro volumi di fatturato 2019 prima del 2023. Ottimo quindi non mi voglio dilungare eccessivamente i numeri e statistiche. Nel prossimo video parlerò dello stock di uffici in vendita in Spagna. Naturalmente sono disponibile per qualsiasi consulenza immobiliare dal link che vi metto in descrizione del video. Mentre per tutto quello che riguarda le informazioni gratuite vi consiglio di iscrivervi dal mio canale YouTube e iscrivervi naturalmente al gruppo Facebook Italia e Spagna che metto il link in descrizione. Pollicione in su se vi è piaciuto il video e buona fortuna a tutti. Ciao!